Ciao a tutti, Alessio, Milano, Italia. Voglio raccontare con voi oggi la mia opinione su quale è il miglior risultato con botulinum toxin. Perché molte volte avete pazienti che chiedono di essere fredda o di rinforzare molto. La mia opinione è che dobbiamo essere balanzati. Qui abbiamo la mia assistente, Viviana, che ha fatto botulinum toxin 15 giorni. Quindi vediamo che la glabella raria è molto buona, un po' naturale, ma buona. E' un po' naturale, magari troppo. C'è una simmetria lenta delle occhie, che aveva anche da prima volta. Un smile. E questa parte inferiore, che magari può essere. Questo è un'area pericolosa per il zygomatico. Come vedete. Quindi, la mia opinione è che questo è un buon risultato. Anche perché, in posizione basica, senza rinforzare, è molto buona. Le occhie sono riduzioni. Quindi, in ogni modo, la mia opinione vuole essere più frizzata. Quindi faccio una piaccia. Qui. 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 Non tocciono perchè non voglio. Magari farlo molto ucciso, perchè questo è un po' molto. Quindi faccio molto superficiale. Qui, qui. Ok, grazie, è stato apprezzato che restate con me per questo nuovo caso e spero che ci vediamo molto presto in un nuovo congresso o in qualunque nel mondo. Ciao ciao!